Bruxelles è detestata perché viene percepita dai cittadini europei come il luogo da cui arrivano i sacrifici. Invece, continua Rodotà, ci deve essere la dimensione dei diritti che è nella vocazione storica dell'Europa. Grazie. La ringrazio. È scritto a parlare il deputato Ciprini, ha due minuti di tempo a disposizione, né a facoltà. in categorie e ad avere a che fare con i numeri. Un ministro che pertanto ben si adatta a una politica che da troppo tempo sta dando i numeri. Un esempio è offerto dal balletto di numeri mai definito, causato dalla riforma previdenziale Fornero, che, nell'evidente urgenza di tradurre in normativa le imposizioni dell'Unione Europea, ha sfornato drammi sociali e nuove categorie di diversamente penalizzati, esodati, salvaguardati e suberati. Una politica che, per cedere a nuove forme di colonialismo, sta abbandonando i propri cittadini. E le categorie del dramma sociale italiano sono destinate ad ampliarsi, disoccupati, inoccupati, rassegnati, suicidati, disperati e esasperati. Nel sottolineare che il lavoro è stato nel tempo trasformato da diritto a concessione e la flessibilità del lavoro si è tradotta in precarietà della vita, invitiamo il ministro a far sì che il lavoro cesse di essere una forma di ricatto e a ripensare un altro welfare che garantisca continuità di reddito, a prescindere dal lavoro. Chiediamo un reddito di cittadinanza, quale rete di supporto dei cittadini e protezione dall'emarginazione sociale, una forma di reddito che sancisca il diritto della persona a vivere con dignità e favorisca la realizzazione di una flessibilità del lavoro scelta e non subita, dove è il singolo a volersi sperimentare, contro il sistema delle raccomandazioni dell'appartenenza a caste, casate, familiari, politiche, lobbistiche e corporativistiche. Il Movimento 5 Stelle non si mescolerà a formare una poltiglia indistinta, ma eserciterà un'attività di controllo e di collaborazione su punti condivisi e sulle buone idee, soprattutto su quelle che diano spazio e rispondano ai bisogni della collettività e al senso di comunità. La ringrazio. È iscritto a parlare il deputato Bragantini Matteo, a sei minuti di tempo a disposizione, ne ha facoltà. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Finalmente oggi andiamo ad affrontare un'importante cosa per questo Parlamento, per questa legislatura. Finalmente abbiamo un governo. Finalmente si comincia a discutere di programmi, di cosa serve per questo Stato, per tutti i popoli che rappresentiamo, per tutti i popoli che stanno soffrendo, per le imprese che stanno chiudendo. E vede, onorevole Presidente del Consiglio, noi abbiamo visto, soprattutto nella parte delle riforme, molti punti programmatici del suo programma, scusatemi il gioco di parole, molto interessanti. Si parla di Senato delle Regioni, si comincia a parlare della fine del bicameralismo perfetto, un po' quello che era già stato fatto nel 2006. Speriamo questa volta di riuscirci.